Bentornati sul canale. Oggi andiamo a visitare una falesia in Valle Antigorio. Andiamo alla Bolla di Crodo. È una falesia con gradi abbastanza bassi, medio bassi, quindi indicata anche per i principianti e per chi si avvicina a questo mondo. Ovviamente sempre molta attenzione anche per percorrere il sentiero che in alcuni punti non è proprio preciso e ben marcato. Comunque è una falesia che sicuramente merita. Adesso ci eravamo già dati una volta. Adesso ci torniamo per fare il punto questo è un punto dove occorre prestare un po' di attenzione e seguire sempre comunque questi bolli rossi che si trovano. Ed eccoci arrivati alla Bolla. Dalla Bolla al panorama non è niente male. Colori autunnali, neve in alto ed eccoci qua. Solo una raccomandazione per chi venisse qui alla Bolla, attenzione appunto al sentiero, in alcuni punti non proprio così semplice da trovare e anche se l'avvicinamento è molto breve, meno di un quarto d'ora. E poi le vie del settore più facile, quindi sul terzo o quarto grado, non ci sono più se solo qualcuno, probabilmente le ha schiodate e sono invece fattibili, un po' più forte dal loro volo. Quella via, bella? Molto bella, 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 molto bella. Qualche tiro qui alla Bolla, è una giornata interessante per fare appunto qualche breve scalata. Se vi è piaciuto il video, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e ci vediamo nel prossimo appuntamento.